Buongiorno cari amici, ben ritrovati qui a Canal Italia, Apple Position, è una nuova giornata da iniziare insieme e vogliamo farvela iniziare con un pizzico di ottimismo, magari avete già sentito qualche notizia negativa, allora cerchiamo un po' di ribaltare la situazione, perché c'è in Trentino una realtà molto interessante di eccellenza che la nostra redazione ha trovato, che si chiama Odontoiatria Trentina, è uno studio odontoiatrico, una rete capillare per la precisione su questo territorio. E con noi oggi a parlarcene il dottor Alessandro Costa, buongiorno. Buongiorno. Grazie per essere in nostra compagnia dottore. Piacere mio. Possiamo spiegare allora chi siete? Sì, Odontoiatria Trentina è una realtà odontoiatrica nata nel 2011 da 5 soci, 5 professionisti, tutti gli odontoiatri, medici, che avevano uno scopo, lo scopo di portare nelle valli del Trentino un'odontoiatria di elevata qualità e con tecnologie innovative, cosa che per la maggior parte delle volte sappiamo è essere appannaggio solo nei grossi centri urbani, cioè i grossi centri in cui si trovano questi studi. Noi abbiamo realizzato, in questo senso siamo pienamente riusciti, a progettare e costruire questi studi, cliniche vere e proprie, nelle principali valle del Trentino. Sono adesso quattro studi, stiamo già lavorando alla realizzazione dei prossimi, delle prossime Tutto è sotto il marchio di odontoiatria Trentina. Tutto è sotto il marchio di odontoiatria, ecco, la precisazione non è un franchising né una catena. È un network di studi dentistici e con, secondo me, la singolarità, la caratteristica che ha fortemente informatizzati, quindi gestibili da un'unica sede centrale, quindi questo ci ha consentito anche di gestire... Quindi ogni sede è indipendente. Ogni sede è indipendente, esattamente. Spieghiamo invece qual è, secondo lei, il punto di forza oggi per voi per stare sul mercato. Ok, allora, il nostro cuore pulsante è ovviamente l'odontoiatria, in questo senso l'abbiamo sviluppata in tutte le sue branche, quindi conservativa, endodonzia, la protesica. Abbiamo specialisti affermati in ogni settore, in particolare una nota, particolare la spendo per l'implantologia, che al momento è veramente sulla cresta dell'onda, nel senso che stiamo utilizzando impianti di nuova concezione, fatti in Italia, e queste tecnologie ci hanno consentito di fare lavori, di risolvere casi che una volta era impensabile risolvere. Individuiamo invece degli obiettivi che vi siete posti. L'obiettivo che al momento su cui stiamo lavorando, dopo appunto questa start-up protesa sull'odontoiatria, è stato quello di uscire dal distretto della bocca e concentrarci su ciò che sta al di fuori, quindi sul paziente, anche in senso più lato. In particolare abbiamo tre grossi rami, nutrizione, disturbi del sonno e la medicina estetica. Queste sono le branche ancillari, sempre l'odontoiatria, quindi che riguardano comunque il nostro mondo, ma con le quali stiamo adesso avendo un forte implemento perché vediamo essere veramente pregnanti. Bene, bene. Allora, complimenti in bocca al lupo a Odontoiatria Trentina, grazie al dottor Alessandro Costa, per essere stato con noi. Grazie mille a voi. Grazie, buona giornata e cari amici, domani mattina noi saremo sempre qua puntualmente. La vostra sveglia suonerà alle 7 in punto e ci saremo noi a darvi il buongiorno in Pole Position. La vostra sveglia suonata e cari amici, domani mattina noi saremo noi a darvi il buongiorno in Pole Position.